Chiuso il mercato tra i professionisti, solo il Monopoli avrà altri 20 giorni per poter completare l'organico dopo l'ufficializzazione della Lega Pro di ieri pomeriggio. Protagonista assoluto del mercato in serie Bilbari di Paparesta nell'ultimo giorno con gli ingaggi di Rosina e Maniero, oltre a Del Grosso e Porcari. Colpi che sono andati a completare la rosa di Nicola, che domenica farà il suo esordio al San Nicola contro lo Spezia. Il presidente Biancorosso ha mantenuto la promessa di allestire un organico ambizioso per poter puntare direttamente alla Serie A. Bilancio positivo in Lega Pro anche per la Fidelisandria, così come previsto non sono arrivati i colpi di mercato dell'ultima ora. L'acquisizione di AIA aveva chiuso la campagna acquisti a Zurra. Da oggi si inizierà a preparare il derby contro il Lecce di domenica sera. Proprio la formazione salentina estratta tra le protagoniste assolute dell'ultimo giorno di mercato a Milano. Una difesa tutta nuova per il tecnico Asta, sei acquisti di qualità, con gli ultimi di Alessandro Camisa e Gianluca Freddi, due pezzi da 90 per la Lega Pro. Al tecnico giallorosso è stato regalato anche il pupillo di Hop, già allenato a Torino, e l'anno scorso protagonista di un ottimo giorno di ritorno col Matera. Il derby di domenica prossima al Via del Mare contro la Fidelis sarà il primo banco di prova per la formazione salentina per dimostrare di essere tra le pretendenti al salto di Serie B. E a proposito di Serie B, una delle squadre che punta al salto di categoria ed ha fatto un mercato importante per la Lega Pro è sicuramente il Foggia. Nuove acquisti, sette top player per la categoria, messe a disposizione di De Zerbi già durante l'estate. Il DS di Bari non ha fatto movimenti l'ultimo giorno di mercato. È possibile che qualcosa a centro campo possa arrivare nelle prossime ore se dovessero essere ceduti Sicurella e Taroglia, Catania e Monopoli. C'è la possibilità per alcuni club di poter stesserare ancora svincolati per poter completare la lista obbligatoria dei 24 calciatori fissata per quest'anno in Lega Pro. Nell'ultimo giorno di mercato è arrivato anche il primo esonero in Lega Pro. La Coppiziale è costata cara al tecnico Salerno del Martina, sostituito da Incocciati. L'unica squadra che potrà rinforzarsi nei prossimi giorni sarà il Monopoli, che dopo la festa per la Lega Pro ritrovata dovrà allestire un organico competitivo per la categoria. Grazie per la visione!